Dopo tanti anni è ripartito il cantiere nell'area del vecchio centro affari dove doveva sorgere e sorgerà una nuova clinica privata del San Giuseppe Hospital, clinica già presente nel centro storico di Arezzo. I lavori della società Assisi Project proprio per ridare lustro e anche decoro a questa zona che sicuramente per varie vicissitudini e vari problemi in questi anni che hanno ritardato la realizzazione di questa clinica, adesso finalmente le ruspe si sono messe in azione, l'area è stata totalmente ritransennata e dunque settando al tabellone, stando a quello che è il cronoprogramma dei lavori dovrebbero terminare entro dicembre 2018, quindi entro il 2018 Arezzo dovrebbe avere questa nuova clinica privata di modo che quest'area dove c'è Arezzo Fiere, dove c'è la nuova sede della Camera di Commercio potrà avere quest'area senza più la famosa buca che tante volte abbiamo visto e anche chi arriva ad Arezzo magari vedeva dal raccordo. Finalmente dunque quando i lavori saranno terminati questa zona sarà restituita con quel decoro che mancava da molto tempo.